oh 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 sono tornato con la dica panna preso qualche cosa? un facciano un chilo e due e che me ne fa? va pulito capito ma sarebbe chiusa la faccia ma dimmi un po' una cosa ma come va cucinato? va frullato? beh io pensavo una cosa o si fa una cena da me da pulirlo e dopo lo mettono nel congelatore o sennò si fa una cosa a me mi va bene vai ma vieni anche te e nacchera fammi sapere buona andiamo se già è tardi ci sei? si a me tu cucini te io non parla di cena io la bollare io la bollare fare i soldi tanti soldi oh lorri sei che glielo dà un passaggio alla mia donna ai macronotto certo io sto andando allo smannolo però capito e tu la scenda in volo anche hai macronotto due va bene non ci prendiamo l'abitudine perché la benzina costa ragazzi no ma che scherzi vai più mi porta lui allora buono ti dà come tu sei e tu ci ha offerto anche il fagiano ma non tu fa la mia come l'altra volta e poi a fine scena tu ci ricavi i soldi ho detto che l'offro io tu sei un piro guarda così ragazzi tra un po' vieno un acquata vada là sui monti già ci piove che montaglia è quello che si vede la carvana non di cazzare parca ma la carvana è dall'altra parte fa valenza o sti piro testa a piro testa a piro andiamo a muta testa a piro testa a piro testa a piro Grazie a tutti.